Il 18 ottobre del 1990 Giulio Andreotti ammette per la prima volta davanti alla commissione stragi l'esistenza di un'organizzazione segreta chiamata Gladio. A queste rivelazioni seguono un mare di polemiche, d'altronde si sospettava da anni che qualcosa del genere potesse esistere in Italia durante gli anni della guerra fredda. La polemica sfocerà addirittura nella riferimento di impeachment per l'allora Presidente della Repubblica Francesco Cossiga che estrenuamente in realtà difendeva l'operato di Gladio e dei 622 gladiatori che risulteranno dall'acquisizione delle liste. Partiranno inchieste della magistratura che dureranno anni. Oggi noi sappiamo però che Gladio era solo una delle varie organizzazioni che erano state create dopo la fine della seconda guerra mondiale in ambito Nato a difesa del territorio italiano. Era una delle organizzazioni della rete Stay Behind che operava in tutta l'Europa occidentale. Le inchieste avviate dalla magistratura non hanno poi portato ad alcuna condanna. Resta il fatto però del perché Giulio Andreotti in quel momento abbia voluto affiancare il nome Gladio a un nome che in realtà evocava terribili fantasmi del passato, il SID parallelo. Allora il sospetto è che forse si sia voluto dare in pasto Gladio all'opinione pubblica per coprire forse segreti più grandi, forse verità inconfessabili che rimandano ad alcune delle pagine più oscure della storia della nostra Repubblica e cioè all'eventuale operato di reti clandestine durante gli anni di piombo e soprattutto gli anni della guerra fredda che operavano ai margini della legalità e della legittimità costituzionale.